Cominciamo con la riete. Oggi è una giornata in cui avrete voglia di fare molto poco. L'ideale sarebbe prendersela di vacanza e fare un giro per la città in cerca di nuovi stimoli emotivi. Toro, non cercate di voler capire a tutti i costi i punti di vista di qualcuno che non ha nessuna voglia di scendere a compromessi con voi. Sul lavoro, seguite la vostra strada. Gemelli, non chiudete la porta in faccia a qualcuno che ha bisogno del vostro aiuto. Magari anche voi non state attraversando uno dei periodi migliori della vostra vita, ma un minimo di solidarietà a questo mondo è d'obbligo. Cancro, sul lavoro non ci sono grandi problemi a parte qualche scadenza che potreste fare fatica a rispettare. Non preoccupatevi più di tanto perché potreste ottenere qualche giorno in più senza grandi problemi. Leone, saprete conquistare la platea con un sorriso grazie a un carisma che oggi vi aprirà tutte le porte del mondo del lavoro. Non sottovalutate un piccolo problema che potrebbe ingrandirsi con l'andare del tempo. Vergine, un po' di indecisione potrebbe rallentare un progetto di lavoro. Siate più sicuri di voi stessi se volete riuscire a convincere anche gli altri. L'amore prosegue a tentoni senza trovare la sua stabilità. Bilancia, date retta a qualcuno che vi vuole bene e che è preoccupato per il modo in cui state gestendo la vostra vita privata. Del resto siete voi i primi a non capire bene da che parte state andando. Scorpione, le amicizie in questo periodo vi riempiono quel vuoto che l'amore sta lasciando. Abbiate ancora un po' di pazienza, prima o dopo le cose cambieranno. Si tratta solo di aspettare che qualcuno si accorga di quanto siete importanti nella sua vita. Sagittario, certe strade non sembrano portare molto lontano. Per questo le stelle vi consigliano di modificare la rotta. Fatelo finché potete. Capricorno, troppe parole e troppi fatti segnano questa giornata in cui vi sentite poco a vostro agio in molteplici situazioni. Sul lavoro vorreste mettere ordine ma l'inconcludenza degli altri sembra impedirvelo. Acquario, la vostra competenza in ambito professionale oggi potrebbe essere messa a dura prova da una serie di difficoltà. Per fortuna saprete trovare la giusta soluzione ad ogni problema. Pesci, non ci sono certezze a questo mondo, soprattutto per voi, in questo periodo che vi vede alle prese con qualche difficoltà di tipo sia professionale che economico. Cercate di non cedere al panico e alla fretta perché servirebbero solo a peggiorare la situazione. Grazie a tutti.